Chi sa di calcio, non sa niente di calcio. Se i giornalisti mi odiano, non è problema mio. Non sono il migliore del mondo, ma penso che nessuno sia meglio di me. Non sono mica perla. Parola e musica di José Mourinho. Siamo negli anni 60, i favolosi anni 60. Il piccolo José prendeva il pallone e per divertimento lo bucava, perché i suoi amichetti dovevano imparare tre cose. Sofferenza, sacrificio, sudore. Piccolo José comincia a tirare calci al pallone, ma oggettivamente non ci sapeva fare. Molto meglio con le parole la sua carriera. Inizia come vice allenatore al Porto. Beh, anche lui ha dovuto imparare. Un certo Bobby Robson. Il vecchio Bobby intravede in questo giovane portoghese del talento. Lo porta anche con sé a Barcellona. Anni dopo sarà protagonista del classico, però dall'altra parte. Dalla parte di quelli che indossano la camiseta blanca e il Real de Madrid. L'inizio vero, però. E al Porto, sì. Di nuovo al Porto. Vince la Coppa UEFA. E la Champions col Porto. Che sarebbe come andare a un concerto di Tiziano Ferro, prendere il microfono e cantare da Dio, ossia da José Mourinho. E la vera svolta della carriera va al Chelsea di Roman Abramovic. Vince due campionati, una Supercoppa, un FA Cup. Cosa ormai normale? Va all'Inter. Tutti ci ricordiamo il triplet. Se lo ricordano bene gli interisti. Ma passiamo ai giorni nostri. Anche perché a raccontare la carriera di questo straordinario allenatore facciamo notte. I giorni nostri hanno il nome di una città, Roma. Ormai la Roma è allo sbando. Ha perso malamente in Coppa dei campioni, umiliata. I giocatori fanno quel che vogliono. C'è molta depressione nell'ambiente. Tanto che è già stato scelto il sostituto, Maurizio Sarri. Sì, questo per i giornalisti però. Invece ieri, come un fulmine a ciel sereno, come un mignolo in uno spigolo, come uno shock because, l'annuncio. José Mourinho è il prossimo allenatore della Roma. Molto entusiasmo, ma anche molto scetticismo. Secondo molti si tratta di un Mourinho in fase calante. Beh, in effetti, le ultime prestazioni non sono state all'altezza del suo palmarès e della sua carriera. Al Manchester, sì, ha vinto un'Europa League, ma Tottenham è stato esonerato nemmeno un mese fa. Ma adesso aspettiamo la prossima conferenza stampa. Ci sarà da ridere, altro che l'Ella.